Pesaro si stringe nell'ultimo saluto a Ilaro Barbanti Oggi consiglio comunale dedicato alla memoria di Forlani Salario minimo via la raccolta firme per renderlo legge Tavuglia pronta a consegnare le chiavi della città a Valentino Rossi VL e il precampionato parte col piede giusto Grazie a tutti in compagnia dell'informazione di Rossini News, telegiornale di lunedì 4 settembre che apriamo occupandoci del lutto che ha scosso la politica pesarese in questo fine settimana la scomparsa di Ilaro Barbanti figura che ha attraversato decenni di amministrazione comunale pesarese e oggi c'è stato l'ultimo saluto nella chiesa di Cristo Re Se ne va un modello cittadino del buon amministrare Se ne va un uomo profondamente innamorato della sua Pesaro Da sabato la città piange la scomparsa di Ilaro Barbanti 79 anni e per decenni figura centrale dell'amministrazione comunale di cui fu assessore ai lavori pubblici e due volte vice sindaco Sia di Oriano Giovanelli sia di Luca Cerescioli prima di concludere il suo percorso amministrativo da presidente del consiglio comunale con Ricci Barbanti si è spento in seguito a una lunga malattia e questo pomeriggio la chiesa di Cristo Re lo ha salutato per l'ultima volta porgendo una carezza di conforto alla famiglia dalla moglie Tiziana ai figli Giuseppe e Lodovica che sull'altare ha portato il commosso ricordo del papà una chiesa stracolma delle centinaia di persone che hanno attraversato i tanti e ramificati legami nella vita pubblica di Barbanti dalla simultanea presenza in chiesa degli ultimi tre sindaci Ricci, Ceriscioli e Giovanelli oltre a decine di esponenti della politica alleata e rivale che ne hanno intersecato il cammino per mezzo secolo assieme alle tante personalità della vita sociale e comunitaria di Barbanti sottolineata nell'omelia di Don Giovanni Paolini che ha concelebrato la funzione assieme a Don Martin e a Don Franco Tamburini lo ha ricordato la chiesa di Cristo Re lo ricorderà anche il Consiglio Comunale come ricordato anche dal sindaco Matteo Ricci a margine della festa di liberazione di Pesaro di sabato scorso è stato un grande amministratore ho fatto il vice sindaco, il presidente del Consiglio tanti anni in Consiglio Comunale poi davvero una persona per bene competente, gentile con un grande senso delle istituzioni per fare le condolianze alla sua famiglia e poi avremo altri momenti con il Consiglio Comunale nel quale lo ricorderemo E davvero pochi minuti dopo il funerale di Barbanti si è riunito il Consiglio Comunale straordinario nella sala della Repubblica del Teatro Rossini per commemorare invece la figura di Arnaldo Forlani il più grande politico pesarese a livello di cariche istituzionali ricoperte venuto a mancare lo scorso 6 luglio all'età di 97 anni Forlani, ex segretario della democrazia cristiana ed ex presidente del Consiglio dei Ministri è stato ricordato a Pesaro dal sindaco Ricci, dai consiglieri alla presenza dei figli Alessandro, Marco e Luigi e del senatore Pierferdinando Casini figura per molti anni vicino a Forlani al pari del presidente del Centro Studi Sociali dei Gasperi Giorgio Girelli che a sua volta ne ha portato il ricordo commemorazione di Arnaldo Forlani che è avvenuta a due giorni dalle celebrazioni del 79esimo anniversario della liberazione di Pesaro dal nazifascismo commemorazione che vi abbiamo mostrato sabato in diretta e ascoltiamo le voci di alcuni dei protagonisti di questo momento dedicato al ricordo dei valori della democrazia e della resistenza è la festa del ringraziamento del ringraziamento ai polacchi, agli inglesi agli alleati in generale, alla brigata Maiella ringraziamento ai nostri partigiani che ci hanno consentito di vincere la guerra di liberazione che hanno consentito di liberare questa città una città che è stata massacrata dalla seconda guerra mondiale perché qui passava la linea gotica e che ci hanno dato di conseguenza la libertà e la democrazia mai dimenticarci che questi valori non sono acquisiti per sempre quindi noi dobbiamo difenderli insieme all'uguaglianza sapendo che in giro per il mondo la democrazia non è l'organizzazione più diffusa che le persone e gli stati sono dati ci sono tante dittature ancora e tante autocrazie quindi abbiamo bisogno di difendere la democrazia così come abbiamo bisogno di difendere la libertà e l'uguaglianza perché ogni tanto ci sono brutti, rigurgiti, razzisti che vanno assolutamente respinti e quindi questo è il valore di questo 2 settembre per Pesaro ovviamente con un pensiero all'Ucraina al popolo ucraino noi ci siamo schierati subito dalla parte del popolo che resiste ma anche con la richiesta all'Europa di fare di più, molto di più per un cessato il fuoco e per l'apertura di un dialogo per la pace sicuramente è un giorno importante perché come dicevo prima il ricordo vive in noi in ogni cosa che facciamo quindi quando lo ravviviamo in eventi come questo dove c'è tanta gente, anche gente in pensione come potete vedere che è a corsa oggi a questo evento in noi questo è un motore per il nostro entusiasmo e quindi ravviva anche il nostro agire quotidiano nell'attività che facciamo attualmente in patria e all'estero il momento storico è stato veramente cruciale quello della seconda guerra mondiale la linea gotica è stata determinante al fine di ridurre i tempi della liberazione e ridurre le stragi che stavano facendo in quel momento nel centro nord i nazifascisti questo è determinante la popolazione di Pesaro si è comportata veramente molto bene i documenti storici lo dimostrano e quanto è accaduto deve essere ricordato continuamente dai più giovani questi momenti non possono essere soltanto fatto dagli anziani vorrei che ci fosse una maggiore partecipazione dei giovani non solo per essere presenti ma per capire che questa libertà questa democrazia questi beni che noi abbiamo adesso non sono venuti dal nulla ci sono stati sono frutto di sacrifici di morti di tante persone e che per poterle continuare a mantenere e non cadere come quello che sta accadendo adesso in Ucraina e in tante altre nazioni a livello internazionale dobbiamo combattere e resistere e far valere come ho detto i giovani non si devono far possedere dal proprio futuro ma lo devono possedere loro non si devono far possedere questo è importante quindi la maggiore partecipazione alla vita pubblica aspettare che ci sia qualcuno che ci faccia qualcosa è ora di far basta è ora di far valere i propri diritti ma a partire da molti doveri che dobbiamo avere a Pesaro è morto ieri all'età di 45 anni Davide Bertozzi di professione panettiere persona molto conosciuta in città soprattutto nel quartiere di Villa San Martino dove risiedeva in via Federici Bertozzi è venuto a mancare in seguito ad un improvviso malore le forze politiche locali di opposizione si uniscono nella proposta unitaria di richiesta al governo nazionale per quel che riguarda il salario minimo una mobilitazione che vedrà tanti banchetti di raccolta firme in città per tutto il mese di settembre le forze politiche pesaresi d'opposizione si uniscono nella richiesta della legge sul salario minimo fino al 23 settembre sarà infatti organizzata a Pesaro una fitta rete di banchetti di raccolta firme specifica per ogni partito ma a sostegno della proposta unitaria di introdurre il salario minimo a 9 euro l'ora in Italia una proposta di coesione su un tema sociale partita da un'idea dell'assessora Francesca Frenquellucci recependo la linea Conte del Movimento 5 Stelle abbiamo deciso appunto di portare avanti questa iniziativa prima firmatario Conte per insomma divulgare al massimo l'iniziativa una battaglia che comunque portiamo avanti da tempo al 2018 che è quella del salario minimo credo che sia un tema unitivo di tutte le forze politiche a cominciare da quelle dell'opposizione credo che è un tema importantissimo perché si risponde con un intervento sui salari a partire da quella che è la soglia minima per poter dare risposta alle famiglie in grande difficoltà economica per tutta una serie di motivi dalla post pandemia, la crisi energetica, il caro bollette, l'inflazione credo che è un punto di partenza perché mettere mano ai salari è una questione di civiltà oggi è un primo passo di dignità minimo salariale può essere solo un punto di partenza ovviamente non è il punto d'arrivo e molte altre cose andrebbero fatte ma credo che questa sia una battaglia doverosa e noi ci siamo sempre stati e ci saremo ovviamente non è la panacea di tutti i mali sappiamo che ci sono i problemi della stagnazione del salario del lavoro nero, della sicurezza sul lavoro quindi non risolve tutto ovviamente poi dobbiamo anche con questa proposta di legge conformarci e rispettare il volere dell'Europa perché c'è una direttiva europea del 2022 che ci chiede di approvare il salario minimo come gli altri 22 paesi dell'Unione Europea Azione è abituata ad andare sui contenuti visto che questo contenuto ci unisce siamo ben felici di fare qualcosa insieme poi il resto è totalmente indipendente da questo il salario minimo si può fare e si deve fare si può fare da un punto di vista economico come dimostrato non solo dall'esperienza di altri paesi a noi vicini ma anche dallo studio di importanti autorità macroeconomiche anche a livello europeo e si deve fare per una ragione morale e sociale ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo ad inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 le immagini inviateci da Paolo nostro telespettatore che ringraziamo si riferiscono ad alcuni disservizi che si trascinano al cimitero centrale di Pesaro a cominciare dai lavandini del piano seminterrato inagibili da quasi un anno al quale la scorsa settimana si è aggiunto anche un ascensore fuori uso fondamentale per il trasporto anziani al piano superiore ed è una richiesta di ripristino servizi in linea a quella segnalataci da Roberto altro nostro telespettatore attraverso queste immagini che mostrano una fioriera in pezzi davanti all'agenzia delle entrate con cocci sparsi da quasi due mesi senza che nessuno sia ancora intervenuto davanti al palazzo pubblico sempre più intensi anche a livello di gemellaggi istituzionali i rapporti fra la città di Vallefoglia e la comunità albanese rapporti che si stanno sviluppando nell'ottica di collaborazioni su progetti ma anche su una sempre più capillare politica di integrazione si è concluso lunedì il viaggio in Albania del sindaco di Vallefoglia Ucchielli dove è andato a far visita a tre città con le quali da tempo viene mantenuto un rapporto di collaborazione fare tappa a Durazzo, Tropogia e Fugiarres è stata l'occasione per dialogare su diversi argomenti dalle tematiche ambientali e la sostenibilità alle imprese e l'economia il rivitalizzato filo conduttore con il paese delle aquile è dettato anche dalla massiccia presenza della comunità albanese nella terra di Vallefoglia la più numerosa dopo quella italiana un popolamento che nel corso del mandato decennale di Ucchielli ormai orientato verso la conclusione ha visto gradualmente il suo accrescimento rendendo di primaria importanza l'integrazione del popolo albanese nella realtà di Vallefoglia un melting pot interculturale che l'amministrazione attraverso progetti e infrastrutture ampliate negli anni considera positivamente io direi che è buono discreto, non dico ottimo perché è chiaro che sono tanti oramai penso un buon 50-60% gli immigrati dall'Italia dall'Europa e dal mondo e farne una comunità non è proprio così semplice però devo dire che qui è la città del lavoro della piena occupazione quindi diciamo anche tutti gli immigrati che vengono trovano lavoro e quando lavora marito e moglie in una coppia quando lavorano tutti i giovani ci sono un po' meno problemi non vuol dire che non ci sono i problemi qui mentre a Pesorafano che pure sono città che hanno inventato i nidi fanno fatica ad avere i posti noi abbiamo 60 posti nuovi 40 dei quali già occupati ma 20 ancora liberi per i bimbi che consentono di avere maggiore ricchezza quindi direi che sono abbastanza soddisfatto anche per uno come me che insomma ha una storia diciamo amministrativa istituzionale però avrei pensato di aver avuto più problemi devo dire la verità con tutti questi immigrati e tant'è che anche al prefetto del questore ho detto insomma noi abbiamo una miscela già importante non rendiamo l'esplosiva e quindi devo dire che c'è stata una buona cooperazione con la polizia locale con l'arma e i carabinieri col maresciallo che è uno che conosce il mestiere quindi e c'è stata anche qui ci sono una quantità di impianti sportivi che fa paura all'aria quindi i ragazzi abbiamo tre centri di aggregazione intergenerazionali abbiamo molti luoghi di incontro e avremo con l'inaugurazione del teatro in autunno due teatri e alla fine del mandato di dieci anni è chiaro che uno lascia una situazione dove grandissima parte dei servizi sono state date delle risposte poi i problemi non finiscono mai intendiamoci ecco però sono molto soddisfatto c'è un bel rapporto con i cittadini devo dire che hanno un buon rispetto e danno una bella mano e quindi insomma credo che si possa dire che c'è grossa soddisfazione nella comunità se devo dire che ho problemi di tensione con i cittadini assolutamente no si è conclusa ieri nel consueto spettacolo di colori in cielo la 68esima festa dell'aquilone di Urbino che alle cesane ha visto premiata la contrada gialla di Hong Kong che ha centrato il suo quarto trionfo nella storia contradaiola a distanza di 37 anni la nega navale pesarese ha rilanciato la coppa tra i due porti una manifestazione velica che non si teneva dal 1988 un match race fra le due barche gemelle del sudalizio classe Meteor che domenica ha visto la partecipazione di 16 vilisti divisi in 4 equipaggi a vincere è stato l'equipaggio tutto al femminile del team Ovest composto da Luciana Forlani Daniela Masci Federica Picchi Cecchini e Maria Cristina Sidoti sono state le note dei giovanissimi nameless applauditi dal pubblico pesarese e da un mentor ed eccezione come il mitico produttore discografico Claudio Cecchetto a chiudere ieri sera la due giorni relativa alla tredicesima edizione della mezzanotte bianca dei bambini centinaia di ragazzi con le loro famiglie in centro storico nell'assistere allo spettacolo di Coccole Sonore e Greta con Whisky e Ragnette e i suoi amici oppure al suggestivo Robo Light Show con la presenza del robot Astro Light o in Piazza Olivieri trasformata nella casa delle Tartaruche Ninja e nel cortile Palazzo Mazzolari Mosca che ha portato a fare un tuffo nel passato nei giochi di una volta questa e tante altre iniziative che potrete approfondire nello speciale che Rossini TV trasmetterà domani martedì 5 settembre alle ore 21 e 20 ed ora nel prossimo servizio andiamo nel Parco San Bartolo e in particolare nel borgo di Santa Marina Alta recentemente protagonista di un evento di coesione all'insegna dell'ecosostenibilità Santa Marina Alta borgo all'interno della cornice del Parco Naturale del San Bartolo è un paese che si riscopre da alcuni mesi infatti un comitato di abitanti affezionati del luogo si sta riunendo per organizzare iniziative che valorizzino e facciano riscoprire le bellezze e le unicità di questo piccolo gruppo di case a strapiombo sul mare dopo una mostra fotografica e una serata sotto le stelle avvenuta nei mesi scorsi lunedì 28 agosto è stato il turno di una cena che ha visto coinvolti tutti gli abitanti del paese non solo nel ruolo di commensali ma di veri e propri partecipanti nell'allestimento e realizzazione dell'evento 26 famiglie 110 persone nessun catering o service niente piatti posate bicchieri o tovagli usa e getta la cena ribattezzata dei lumi in omaggio agli antichi fuochi che in passato venivano accesi sulle alture del San Bartolo per guidare le imbarcazioni ha avuto come pensiero cardine quello della condivisione e della partecipazione attiva oltre a quello del rispetto per l'ambiente punto fondamentale per una comunità che vive all'interno di un parco naturale tavoli e sedi sono stati presi in prestito dai ristoranti e dai residenti all'interno del borgo e poi ricoperti da una multitudine colorata di tovaglie piatti e stoviglie portate da ogni singola famiglia assieme alle brocche con cui rifornirsi d'acqua da distributori comuni o del vino portato da ogni singolo nucleo familiare assieme a contorni e dolci il menù principale della serata all'insegna di piatti della tradizione è stato curato dai tre ristoranti del paese che si sono offerti di cucinare gratuitamente gli ingredienti comprati con una spesa comune dal ristorante da Gennaro è arrivato il primo tagliatelle con ragù come una volta frutto di ben 120 uova l'agriturismo punta degli schiavi ha preparato la sua rinomata pasticciata piatto tipico pesarese a base di carne e aromi mentre il circolo d'Arcimboldo si è occupato del coniglio in porchetta ricetta ben consolidata e affidata della zona la cena inizialmente prevista lungo la via centrale del paese a causa del forte vento si è spostata nei locali della ex scuola elementare che da alcuni anni è stata restaurata e ospita un centro visite del parco soluzione un po' meno pittoresca ma che ha ulteriormente rafforzato lo spirito di unità e commensalità di un paese fatto di tante anime diverse un paese che ha puntato sul contributo ai talenti di ogni suo singolo abitante per riscoprirsi e valorizzarsi con l'obiettivo di aprirsi e coinvolgere sempre di più anche i tanti visitatori e frequentatori del San Bartolo non un unicum quindi questa cena dei lumi di Santa Marina Alta che vuole invece diventare un appuntamento fisso di ogni estate ampliarsi e aprirsi sempre di più al resto della cittadinanza e agli affezionati di questo piccolo gioiello che vuole tornare a brillare Tavuglia Tavuglia è pronta a celebrare la sua leggenda il 7 settembre Valentino Rossi sarà protagonista del ricevimento delle chiavi della città da parte del sindaco Paolucci in un pomeriggio e in una serata che ne ripercorreranno la carriera un evento che è sostenuto dalle regioni Marche e che è stato presentato questa mattina proprio ad Ancona il 7 settembre è giovedì la giornata di questo evento che sta prendendo una piega degli sviluppi una piega detto in termini motociclistici internazionale visti i partecipanti gli ospiti e le personalità inizierà dal pomeriggio noi apriremo le porte di Tavuglia alle 14 e fin dalle prime ore ci sarà un intrattenimento musicale con dei DJ in particolare DJ Ralf che è un amico di Valentino ma è una persona molto conosciuta nei nostri luoghi alle 8 e mezza quindi 20 e 30 inizierà lo spettacolo dell'evento perché a questo punto sta diventando uno spettacolo con la diretta di Sky su Sky Sport verrà fatto in diretta i presentatori sono gli storici della MotoGP quindi Guido Meda Mauro Sanchini e Vera Spadini avremo diversi ospiti che saliranno sul palco ripercorrendo tutte le fasi di una carriera della leggenda dello sport credo tra le più conosciute al mondo quella di Valentino Rossi per poi concludersi con la consegna delle chiavi della città che è un atto istituzionale ed è un riconoscimento che ci sentiamo in dovere di dare a Valentino per il suo attaccamento al nostro territorio a Tavuglia alla nostra regione e per la promozione che in tutti questi anni più di un quarto di secolo lui ha svolto in giro per il mondo portando la conoscenza e i nostri valori attraverso la sua capacità comunicativa e il suo sport sicuramente festeggiare Valentino Rossi è sicuramente un atto importantissimo la consegna delle chiavi di questa città ha un suo significato simbolico particolarmente importante ma soprattutto quello che mi piace sottolineare di questo grande campione è che continua a stupirci e adesso lo sta facendo grazie appunto a VR46 Academy che è proprio un'accademia che lui rivolge ai giovani ai giovani piloti quindi a dei giovani talenti che vogliono proseguire ovviamente nel suo esempio uno sport che è il motociclismo e quindi cercando anche di trasmettere a questi giovani ragazzi innanzitutto i valori dello sport ma credo anche un altro aspetto la sicurezza perché comunque il motociclismo è uno sport che richiede anche questo aspetto quindi questa sua particolare attenzione verso i giovani credo che sia un ulteriore valore aggiunto che ci faccia capire quanto questo campione sia grande e restando in tema di sport sabato sera c'è stato lo sfortunato debutto della Vispesoro nella prima giornata del campionato di Serie C la Vis ha infatti perso 1 a 0 in casa della corazzata Spal con un match deciso dalla sfortunata autorete di Tonucci e da diverse contestate decisioni arbitrali che hanno punito oltremodo una bella Vis è andata invece meglio la VL che nella prima amichevole precampionato ha battuto la Virtus Bologna in quel di Faenza il precampionato della Carpegna prosciutto basket Pesero inizia con una vittoria in amichevole contro la Virtus Bologna al Palacattani di Faenza nel primo test della nuova VL targata Maurizio Buscaglia i biancorossi battono i rivali bolognesi con il punteggio di 73 a 69 dopo un finale punto a punto in cui le Vunere erano riuscite a rientrare in partita recuperando anche 15 punti di svantaggio subiti nel terzo periodo di gioco una VL che ha subito mostrato buone cose soprattutto per quanto riguarda la metà campo difensiva con un attacco che invece ha ancora un po' imballato e che ha fatto però intravedere delle belle giocate soprattutto con Banfort e Tambone siamo rimasti abbastanza sul pezzo delle cose fatte in questi giorni il posizionamento certe rotazioni certi movimenti riuscivamo anche se la partita era tosta a mantenere concentrazione nelle cose primarie che ci eravamo detti di cercare di fare tutti più volte e quando entravamo uscivamo dalla panchina tra l'altro gradualmente quindi avete visto anche insomma nella distribuzione dei minuti c'è un coinvolgimento di tutti ci sono dei giocatori che poi arriveranno ad avere più minuti e altri che non hanno giocato che arriveranno a giocare tutti i lunghi sono stati bravi difensivamente hanno coperto bene anche per cercare di lavorare fino al rimbalzo contro una squadra comunque fisica al di là delle assenze abbiamo preso il rimbalzo abbiamo cercato di combattere sotto quell'aspetto il fatto di aver probabilmente abusato un po' del palleggio non è colpa di nessuno un po' la difesa forte loro poi il fatto che abbiamo ancora situazioni offensive che ci portano a fare quello comunque a me l'atteggiamento difensivo è piaciuto e determinate cose che so che abbiamo lavorato mi sono piaciute insomma e invece sempre più vicino il rientro di Valerio Mazzola out per infortunio dalla partita proprio contro Bologna del 26 dicembre scorso ma che ieri ha svolto tutto il riscaldamento con i compagni seppur senza essere della partita già dalla prossima settimana giocherà quindi è stato soltanto un processo logico e giusto si è allenato prima si è allenato fino a ieri lo sapeva era tutto sotto controllo insomma non ci sono state ripercussioni particolari perché hanno fatto prendere decisioni diverse e nonostante nonostante fosse solo un amichevole le sfide tra Pesaro e Bologna sono sempre fra le più sentite come lo hanno dimostrato i tanti tifosi accorsi a Faenza in una calda domenica d'estate bellissimo anche perché tanta gente anche perché non ci scordiamo il perché eravamo anche qui la gioia di essere qui per ricordare momenti che sono meno gioiosi e poi il supporto il supporto si sente ci sono dei momenti di difficoltà come è stato a un certo punto quando Bellinelli ha fatto quella striscia quel momento magari tu cerchi di andare avanti cerchi di superare l'ostacolo cerchi di risolvere un piccolo momento di crisi e ovviamente il tifo ti tiene su e il tifo ti tiene su sempre Si conclude qui questa nostra edizione della telegiornale Rossini News e prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che in questo primo lunedì di settembre vede cominciare una nuova proposta di Rossini TV quella dei saggi di danza delle scuole di danza pesaresi cominciamo questa sera con il saggio The Land of Dreams alle ore 21.20 saggio realizzato dalla MSD Lab di Pesaro e poi come sempre vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa del mattino buongiorno Rossini come sempre in diretta dal lunedì al sabato compresa la giornata di domani a partire dalle 7.20 ed è invece davvero tutto per questa sera per quel che riguarda Rossini News il telegiornale si conclude qui vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti